Questa settimana Davide Santone è il protagonista di Inter-NOS. Scrivi le tue domande a Davide via mail a interchannelchiocciolainter.it, via sms o whatsapp al 342-7210185 o via twitter a chiocciolainter underscore channel. Grande soddisfazione giocare per la nazionale, era tanto tempo che aspettavo, ero stato convocato l'anno scorso per l'amichevole contro l'Inghilterra però non avevo giocato in alcun minuto, questa volta invece mi ha convocato subito e sono molto contento. Giovedi sera alle 21 Santone risponderà a voi tifosi solo su Inter-Cent.